E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video Oggi sapete che giorno è? Ve lo dico io, oggi signori è sabato E sapete cosa vuol dire? Che oggi siamo qui con un video particolare Non siamo qui con un video gameplay ma siamo qui con un video di prova a non ridere challenge Guardando i video più divertenti di TikTok Prima di iniziare con questo video vi invito da subito a lasciare un bel pollicione in su E mi raccomando iscrivetevi al canale per supportarmi E fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video reaction di questo genere o anche magari diversi Quindi sbizzarritevi e datemi anche voi delle idee magari sui prossimi video reaction Come sapete ragazzi tutti i giorni mi trovate appunto in live sul mio canale Viola dalle 16 in poi E sono stata io stessa appunto mentre in live a chiedere alla mia community di mandarmi tutte le clip più divertenti Che avevano appunto a disposizione nel loro account TikTok Vi faccio subito vedere Ed eccoci qua ragazzi siamo sul mio server Discord dove appunto ho creato un canale che si chiama Clip Video YouTube Dove ho chiesto appunto ai ragazzi quindi alla mia community di inviarmi su questo canale Tutte le clip più divertenti che appunto avevano a loro disposizione E queste sono tutte le clip che mi hanno inviato Sono una marea di video Cioè non finiscono più Ovviamente non posso andare a fare la reaction a tutti questi video Perché letteralmente ci metterei due ore E non mi sembra il caso di fare un video di due ore Ok? Però ho selezionato alcuni video diciamo a caso Quindi in realtà non mi ricordo neanche quali video ho selezionato di chi ho le persone Ma oggi andiamo a fare la reaction ai video che mi ha inviato la mia community Ok primo video Il fermo immagine non promette bene ma mi dissocio Non pensate male ovviamente Cioè l'ho pensato male anch'io Ma facciamo finta di niente ok? Iniziamo con la reaction Oh look A dandelion Must be the last one this season Oh Eh natizia che si mangia un fiore Non niente di strano Cioè non faceva ridere Era normalissimo Cioè mi aspettavo una cosa di strana Invece no Bocciato Cioè bocciato Spero che la mia community mi abbia inviato dei video divertenti Perché se sono di questo genere Non riderò assolutamente Ma vediamo perché io tendo davvero la ricarella abbastanza semplice Sport olimpico subito Vediamo un po' C'è un bezzo Non dovrei ridere No fermi Non devo ridere Se rido sono una persona malvagia Ma vi spiego perché Raga ma povero gatto Che che gatti possono volare Pure dal settimo piano E non si fanno niente Però cristo santo Guardate fermi Andiamo avanti con il next video Non capisco se è una cosa vera O se è tipo Cioè no È fotomontaggio Fotomontaggio Videomontaggio Non è possibile Cioè questo qua No non può essere Ti buttalo da lì Non fa ridere No Non fa ridere Ok Puoi fare un tutorial Sei troppo brava Vediamo un po' cosa fa questa ragazza Allora faccio l'alluccio Roberic Nicki Minaj Insomma tutte le Twerkatrici più grandi del mondo Levatevi per favore Proprio spostatevi Perché qui abbiamo lei Ok Lei è la vincitrice ufficiale Ok Peppa Pig Sto facendo un video Vediamo un po' Io sono Peppa Pig Aia E questo è il mio fratellino George Aia Questa è bambina Aia E questo è bambino Peppa Pig Aia Io non lo sopporto sto bambino Regà Io non lo sopporto Non lo sopporto Proprio Non ho riso Non ho riso Non ho riso No Non ho riso Ho resistito abbastanza Ok Non era una risata Andiamo al prossimo video Pizza su Sibaca Vediamo un po' cos'è Un minuto di video Repariamo la pizza Sussi Baca Io ragazzi Ci metto anche Un po' di pomodoro Sussi Baca Sussi Baca Sussi Baca Sussi Baca Pizza Sussi Baca Per tutti noi Gambare gambare Sempai Sempre No No Basta No regà Basta sto gambare gambare Sempai Basta 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 Come dire Management Vediamo un po' cosa dice Non è management Management o management Si dice Ma dice questa parola Non è management Management o management Si dice Sono sempre Sono sempre Sono sempre Gli italiani Su COD Che sanno Sempre Come farsi Riconoscere Adoro Adoro Tutto questo ragazzi Io ho giocato a COD Per qualche mese E effettivamente Vi assicuro che quando Uccidavate un qualcuno Su COD Un italiano Era quasi sempre Così Sempre così Vi è piaciuto questo video Approvo Approvo al 100% Molto bello Molto significativo Proprio di Impatto Andiamo al prossimo Video normale Non faceva ridere Cioè No Bocciato Proprio no No categorico Andiamo avanti Ok Una tizia che non riesce ad alzare Io mi sento un po' come lei Mi sento un po' come lei Perché effettivamente io Va bene Andiamo avanti Ha bocciato perché mi fa incazzare Andiamo avanti Ok Non ho riso Andiamo avanti Ok Vedo delle bambine bellissime Cioè Mi dissocio Mi dissocio ovviamente Pulizia Cioè Nel senso Delle bambine molto belle Perché si vede L'erano già dal vaccino Che sono molto carine Quindi Andiamo avanti Vediamo un po' cosa succede Borta Ha giudicato Ma che Ma che Ora l'ho capito Guardate il taglio dei capelli del bambino All'inizio ci sta la musica All'inizio ci sta la musica che dice tipo Hog Rider Che sarebbe il domatore dei cinghiali di Clash Royale Ora ho capito Se non è che voglio fare E' fortissima Guarda tantissimi video di lei Di questa ragazza su TikTok Mi escono sempre Nei per te Vi giuro Fa veramente sconfisciare Fa veramente sconfisciare Ok Quindi Luca sale in macchina O lei Perché 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 Avesse il consumo Tipo strano Avesse tipo tutto storto Cioè C'ha gli occhi tipo uno sopra uno sotto Ma poi Lei è bellissima La risata della tizia Sentite la risata Bello 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 Mi è piaciuto Questo qua ci stava Questo qua ci stava Ci lascio pure un mi piace a questo video Me lo voglio conservare Perché è troppo bello Bello Ho riso Ho riso Ho riso Mi è piaciuto Che è un tizio che sta lavorando Come cazzo si fa raga Come cazzo si fa Ma come cazzo fai A mettere la testa lì Che sai che esce Quella stringa bianca Per chiudere i pacchi Come fai No raga L'ha fatta apposta Non è possibile Non puoi avere due di più Vediamo un po' Ti hai due macchine Con un garage La classica fatica domanda Inutile Cioè quante volte Quante volte è successo Quante volte è successo Ogni volta Cade qualcuno Si fa male qualcuno Stai bene? Tutto bene? No guarda Fra Sono morto Cioè So caduto dal quarto piano Sfattuto la vista Sul garage Sto bene Va bene dai Va bene È morto Cioè Deceduto ragazzi Proprio Non faceva ridere Mi si piace per lui Che si è fatto un male Assurdo Alla fronte Praticamente Andiamo avanti Andiamo ragazzi Con l'ultima clip Di Fortnite Questa è l'ultima clip Che andremo a vedere oggi Ok Ragnatela Un po' Spider-Man Ok Ma il tizio è fermo Cioè No ragazzi Cosa la devo fare? Non faceva ridere Perché non ero Invitato a far ridere Ma è una figata Sta roba Cioè Va fatta? Devo provarla Non riuscirà mai Cioè Farla volutamente Non riuscirà mai Questa cosa Però tanta roba Cioè Bellissimo 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 Mi è piaciuto Mi è piaciuto Però i video Sono finiti Bene ragazzi Siamo giunti Al termine Di questo video Spero ovviamente Questa reaction Vi sia piaciuta Devo dire che La mia community Mi ha inviato Diciamo dei video Di TikTok Alcuni molto divertenti Alcuni invece Completamente bocciati Però Ce n'erano alcuni Che erano veramente Molto molto belli Se volete Se volete altri video Reaction Di TikTok O comunque Qualsiasi tipo Di reaction Vi possa far piacere Vedere Mi raccomando Ragazzi Sbizzaritevi Nei commenti Scrivetemelo E fatemi sapere Appunto Cosa vi piacerebbe Vedere In un prossimo video Magari che possa essere Una reaction O meno Quindi Datemi anche Voi stessi Dei consigli Perché se Dovesse piacermi L'idea di qualcuno Di voi Potete tranquillamente Portarla qui Sul canale Spero ragazzi Ovviamente Che vi sia piaciuto Questo video Vi ricordo Che se non avete Ancora lasciato Mi piace Potete ancora farlo Quindi lasciate Un bel like Iscrivetevi al canale E seguitemi Su tutti i profili social Instagram Canale Viola Tutto comunque In descrizione Sotto questo video Mi raccomando Dato ciò ragazzi Il video è terminato Ci vediamo A un prossimo episodio Mi raccomando Passate una buona giornata Bella a tutti ragazzi